Torniamo in Italia, andiamo a Bologna perché si è svolta ieri la prima di una serie di manifestazioni per festeggiare i dieci anni della Casa dei Risvegli di Bologna. Istituto di eccellenza per la ricerca del coma. Una corsa in bicicletta guidata dall'attore e testimonial della manifestazione Alessandro Bergonzoni dal direttore del Centro Studi per la ricerca sul coma, Fulvio De Nigris ha coinvolto i cittadini del capoluogo emiliano ed ha attraversato la città fino all'ospedale Bellaria. Sono previsti fino a domani, il 7 ottobre, la data in cui si celebra la giornata dei risvegli nazionali del coma, diverse iniziative culturali. Una breve pausa.